ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video il giorno così sarei sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti oggi ti parlo di cajiva freccia c 12 r 125 nel 1989 a cajiva motor spa una casa motociclistica italiana che ha la sua sede avarese in lombardia la cajiva nasce quindi nel 1950 esattamente avarese il fondatore giovanni castiglioni e produce l'azienda minuteria metallica a partire però dal 1978 i figli del fondatore chiamati claudio e gianfranco che si chiamavano gianfranco comprano la società amf early davidson che era in liquidazione e le danno il nome dell'azienda di famiglia quindi il nome deriva dall'acronimo tra del nome del fondatore e la sede infatti al significato di castiglioni giovanni varese siamo poi nel 2011 quando l'azienda passa al figlio di claudio giovanni la famiglia castiglioni quindi molto appassionato al mondo delle moto ea schiranna che si trova sulle rive del lago di varese dove si trova appunto lo stabilimento confluisce poi anche l'esperienza dei tecnici di armacchi se questo che questa azienda storica del locale e di mv augusta passiamo però al parlare punto della cagiva freccia denominato appunto c 12 r 125 che viene presentata al motoshow di bologna il 3 dicembre 1988 e viene commercializzata quindi a partire dal marzo del 1989 la freccia si presenta ancora come moto di riferimento e pochi interventi mirati contribuiscono a renderla ancora molto gradita al pubblico in particolare il nuovo parafango vediamo nell'immagine quindi se vi ricordate la c10 aveva un parafango piuttosto esteso e come d'altronde anche la c9 mentre in questo caso viene ridotta la dimensione del parafango infatto la moto rimane sostanzialmente uguale però appunto viene affinata e vediamo appunto in che modo si è intervenuti quindi il nuovo parafango diciamo di dimensioni contenuti contribuisce quindi a ringiovanirla e inoltre grande novità il cambio sette rapporti della moto una vera primizia nel parama panorama motociclistico mondiale conferiscono quindi alla c12 c'era un vantaggio tecnico esclusivo il motore monocilinico a due tempi la distribuzione lamellare la volatola comando elettronico sullo scarico è una cilindrata di 124,63 cm3 raffreddamento liquido alimentazione è fornita da un carburatore della dell'orto dominato ph bh 28 rd col diffusore da 28 mm la potenza massima di 28,8 cavalli 10.100 giri al minuto il telaio è formato da un doppio trave in tubi d'acciaio sezione rettangolare quadra ad alta resistenza la sospensione anteriore poi vediamola nell'immagine eccola qui è affidata a una forcella teleidraulica della marzocchi con gli steli da 35 mm la selle alta 770 mm da terra passiamo al posteriore dove abbiamo un mono ammortizzatore sempre della marzocchi con la regolazione del precarico della molla il sistema a leveraggi progressiva denominato soft dump di cajiva le ruote poi sono della grimeca sono in lega leggera a tre razze rivediamo all'anteriore la bella ruota bianca colore bianco e hanno un diametro di 16 pollici all'anteriore diametro che in quell'epoca era tra virgolette di moda quindi molto utilizzato in questo tipo di motociclette e al posteriore 17 pollici impianto frenante dalla brembo col freno anteriore a disco da 298 mm quindi di generosa dimensione con cui bello in evidenza con pinza flottante doppio pistoncino mentre al posteriore troviamo il singolo del 240 mm col comando idraulico e la pinza fissa il serbatoio perde qualche litro parliamo di 15 litri il peso secco della moto di 125 kg se ti è piaciuto il video metto il like se non ti è piaciuto dislike iscritti al canale e attiva la campanella per due motivi primo è gratis non ti costa nulla e contribuisce alla diffusione del canale in secondo luogo faccio un video al giorno e se sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata